Adesso le immagini dell'incontro che c'è stato oggi pomeriggio a Roma di alcuni familiari delle 29 vittime della tragedia di Rigopiano con il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. State vedendo appunto le immagini ad accompagnare la delegazione e anche il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Una procura nazionale che si occupi di tutte le grandi stragi italiane. Una delle proposte espresse dalla delegazione del Comitato Familiari. Tra i cinque familiari anche Giampaolo Matrone, sopravvissuto dopo essere rimasto 62 ore sotto le macerie, che quel giorno ha perso la moglie. Matrone ha portato alla Presidente del Consiglio una lettera scritta appenna dalla figlia di 11 anni. La Premier si è commossa leggendola. Infine un commento di Marsilio mentre lasciava Palazzo Chigi. È stato un incontro cordiale e anche molto toccante sotto il profilo umano. La tragedia di Rigopiano è stata davvero unica nel suo genere e c'è grande amarezza e anche preoccupazione per il fatto che ci sono voluti praticamente sei anni per arrivare al primo grado di giudizio, nonostante un rito abbreviato. Metteremo il massimo impegno, ha concluso Marsilio, affinché il processo d'appello si faccia in tempi stretti.